Abbiamo avuto il consenso dei 29 rappresentanti presenti, questo ci conforta e vuol dire che siamo nella direzione giusta, soprattutto nella direzione del territorio. È stata un'assemblea decisamente partecipata, ma soprattutto collaborativa da parte di chi in questo momento siede l'opposizione. E per quanto riguarda la variazione del bilancio? Anche su questo punto non ci sono stati problemi. Le cifre che sono state spostate affinché si andasse in favore di alcuni interventi sono state accolte dall'assemblea in toto. Vorrei aggiungere che la parte più interessante è quando si è trattato di rimodulare le economie riguardanti i progetti integrati di sviluppo locale, dove abbiamo potuto, grazie alle economie, frutto di interventi fatti in maniera ottimale, che hanno garantito anche delle economie, con queste economie messe assieme abbiamo dato la possibilità a tre altri interventi di chiudersi. Posso sinteticamente ricordare che Oneta aveva un progetto a suo tempo risultato ammissibile, ma non finanziabile, perché non c'erano le risorse. Con 50.000 euro che abbiamo recuperato attraverso l'economia può sicuramente farsi il suo punto informativo, bike sharing, quindi noleggio biciclette, e quindi dare anche un modo per quanto riguarda un piccolo sviluppo turistico. Il costo dell'opera previsto era di 88, per cui al Comune spetterà un carico di 38.000 euro. Un altro intervento che va nella direzione sempre di aiuto ai piccoli comuni, oltre a Senda Alta, ha recuperato o andrà a recuperare un vecchio silter, costo dell'opera intorno ai 60-60.000 euro, la Comunità Montana ha trovato risorse per 31.000 euro. Per quanto riguarda Castione, un tratto di pista che va dal monumento degli Alpini fino al palazzetto dello Sport, 120.000 euro il costo dell'opera, siamo riusciti a dare 66.000 euro, sempre attraverso il recupero e la centellinazione di queste risorse. Da ultimo, la strada messa in sicurezza da Colzate che va a Bondo, totale dell'opera 280.000 euro, siamo riusciti a finanziarla in toto. Altro aspetto importante per quanto riguarda la reciclabile, devo aggiungere che il tratto che è in sede di progettazione dalle fiorine, quindi dall'inizio della nuova tangenziale, che si snoderà attraverso la campagna bassa in prossimità dell'ex heliporto per arrivare fino ai ponti di Rovetta.